E vai! L'area parcheggio oggi si rinnova di un impianto di illuminazione a led e nuove alberature, regalando così decoro a quell'area lasciata a se stessa per diverso tempo. Dopo la benedizione, ufficiata da Don Gianni Petroni, è seguito poi il taglio del nastro da parte di amministrazione, parroco, insieme alla ditta che ha eseguito i lavori. Con grande sforzo abbiamo risolto il problema del fallimento a cui era legata appunto quest'opera e a cui sono legate molte delle opere di Gimarra, proprio qui in Via Cena, al centro del quartiere. Abbiamo oggi simbolicamente inaugurato un parcheggio importante che restituisce a decoro appunto la chiesa e l'abbiamo fatto con la parrocchia. Ringraziando tantissimo sia la LIM, ma anche la società Satise che ha eseguito i lavori, che sono stati seguiti dall'ingegnere Ansuini e collaudati dall'ingegnere Camerini. Quindi siamo arrivati alla fine di questo primo lotto delle opere di urbanizzazione. Manca alcuni piccoli dettagli come di finire il parcheggio in Via Forlanini, che è quasi finito, e di sistemare la scarpata al meglio con il riempimento di terra. Quindi ci siamo, abbiamo affrontato temi molto delicati con la curatella fallimentare, siamo riusciti, oggi finalmente decoro a un quartiere che si meritava davvero questo. In più, proprio da pochi giorni, la ditta acquisitrice della struttura incompleta di Fano Alta è al lavoro per completare tutto il complesso abbandonato. Mi fa piacere anche dire che partiranno presto i lavori della società di Sorcinelli Fabrizio, che ha rilevato dal fallimento tutto il blocco che è incompleto e che appare soltanto come calcestruzzo di fianco alla chiesa. E dalla prossima settimana inizierà tutta l'opera di pulizia e per iniziare i lavori a giugno. Siamo molto contenti perché anche questo fa parte di un passaggio fondamentale. Sorcinelli si è impegnato a finire i lavori il prima possibile, noi siamo veramente contenti e dunque siamo veramente felici perché anche quest'opera potrà vederci compiuta nel giro di poco tempo. E auguriamo che possa essere per il quartiere di Gimarra anche un'opera utile con dei servizi al piano terra e delle residenze ai piani superiori.